Ciao amici della Serie A, io sono Mike Scioscia e oggi vi porto con me in un'esperienza incredibile. Siamo qui a Roma, allo Stadio Olimpico, per seguire la finale di Coppa Italia, Fiorentina-Inter. Vi porterò con me nel prima e nel dopo questa partita e soprattutto nel dietro le quinte. Che cosa succede durante una finale di Coppa Italia? Scopritelo insieme a me. Intanto i tifosi stanno già arrivando. Venite, venite, entriamo. Iniziamo subito con una cosa super segreta. Gli spogliatoi, ma voi li avete mai visti? Eccolo. Spogliatoio dell'Inter, spogliatoio della Fiorentina. Vedo qualcuno, meglio non disturbare, quindi entriamo in campo. Ragazzi questa cosa non l'ho fatta mai neanche io, guardate. Siamo nel tunnel degli spogliatoi. Guarda, qui si entra in campo, andiamo. Guarda, qui si entra in campo. Vi posso assicurare che godersi questo spettacolo da tifoso neutrale è veramente incredibile. Avete sentito i tifosi della Fiorentina? Dall'altra parte ci sono i tifosi... Ma il rumore che c'è è pazzesco e non è ancora iniziata. E questa è la cosa bella. Inoltre avere questa opportunità di poter scendere in campo. Devo dire che stiamo proprio a livelli alti oggi. Immagino sarà un grandissimo spettacolo. Noi siederemo in questa parte dello stadio. Così potremo vedere bene la partita. No, no, bira chi? Crossa, crossa. E Correa. Cambio, cambio. Ah, non sono l'allenatore? Mi scaldo e vado in campo. Che c'è di meglio di entrare proprio in campo? Di poter provare? Guarda qui. Forse è meglio godersela dalla tribuna la partita. Ragazzi, siamo con Ana. Ma soprattutto siamo sotto la curva della Fiorentina. Sentite che rumori. Sì, 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 si riempie tutto. Si sente da... C'è l'ambiente. E il bello è che mancano ancora due ore prima della partita. E adesso state vedendo l'ingresso dei giocatori per testare il terreno di gioco. È stato un momento particolarmente emozionante soprattutto per i tifosi che hanno cominciato a intonare Corri e è iniziata la festa. Ragazzi, ci siamo spostati. Siamo sempre in campo. Ma stavolta guardate dove. Mentre stanno entrando i giocatori della Fiorentina noi siamo qui con i giocatori dell'Inter che si scaldano. È un inferno! Non serve niente! Beh, beh, direi che siamo piuttosto vicini. Ma ce l'hanno con me? Il momento delle formazioni dell'Inter ma sotto la curva della Fiorentina, guarda! Dopo un bel giro in campo è arrivato il momento di andare al nostro posto. Guardate intanto qual è la vista. Questa è proprio un'esclusiva incredibile. Guardate che spettacolo la curva della Fiorentina e che coreografia! è iniziata la partita ma non ti puoi distrarre neanche un secondo perché pronti via succede questo. Oh ragazzi, ma ha segnato la Fiorentina così a sorpresa! Ma 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 è appena iniziata! Ho appena messo il telefono in tasca! Il cross in mezzo così si è avviutato e non so chi è stato attagliato. Perché ci abbiamo anche la ricerca. Nico Gonzalez! E per chi non c'era vi assicuro che lo spettacolo non era solo in campo ma anche e soprattutto sugli spalti. Guardate che roba! L'Inter ha rimontato la Fiorentina. Siamo su 2 a 1 però è una partita combattutissima. Non ti do l'ora che inizia il secondo. Ma prima caffettino al bar. Ragazzi è iniziato il secondo tempo. Attaccano tutte e due. Ancora tutto in bilico. Un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte. Complimenti all'Inter, campione della Coppa Italia, guardate ragazzi che festa, però facciamo i complimenti anche alla Fiorentina che ha giocato alla grande e soprattutto ai tifosi, sono stati incredibili, veramente, tantissimi, felissimi per la sua stessa. Anna, ti è piaciuta la partita? Sì, mi è piaciuta, mi è piaciuta. Sei divertita? Mi sono divertita perché la Fiorentina ha lottato fino alla fine, quindi è stata una bella partita, sì. Però adesso è la cosa più incredibile, a me non era mai successo di andare in campo per la premiazione, cioè dietro di noi ci sono i giocatori, è una cosa fighissima, guarda, ce l'abbiamo tutti intorno, guarda. Guardate, sì, sì, sì. Ecco qua che passano. Un momento speciale che vivremo, cioè proprio da vicino a vicino. Da vicinissimo, è bellissimo, guarda, se ti giri stanno tutti là, guarda. Per il recho che, guarda, se ti giri stanno tutti. Andiamo a saltare sotto la cupa pure noi ragazzi Siamo con l'arico dell'Inter, i giocatori dell'Inter a festeggiare Quindi amici della Serie A Spero che vi sia piaciuto questo contenuto esclusivo Vi ho portato in finale di Coppa Italia Complimenti all'Inter, complimenti anche alla Fiorentina Grazie a tutti e al prossimo video